C'era una volta una cittadina dove nessuno dei suoi abitanti poteva fuggire, ma una ragazza era diversa. Ho bisogno di questo lavoro. Mi dispiace. Le dicevano che non se ne sarebbe mai andata. E quindi com'è fuggita? Sei sicura di voler partecipare, Heather? C'era un gioco chiamato Panic. Quest'anno il vincitore si aggiudicherà 50.000 dollari! Ogni anno ci sono nuovi giocatori, nuove sfide. Non devi farlo per andare al college e in invece sì. Puoi davvero vincere. Fai attenzione. L'anno scorso due ragazzi ci sono rimasti secchi e qualcuno la deve pagare. Ragazzi? Si comincia. Benvenuti a Panic! Prima sfida, l'asse della morte. Via i giochi! Ogni giocatore ha una storia. Tu non hai paura. Tutti abbiamo delle paure. Ogni giocatore nasconde qualcosa. Tu e io possiamo vincere insieme. Fuoco! Credo che qualcuno stia truccando il gioco. Sai che il gioco è organizzato da dei giudici. Non sappiamo chi c'è dietro. Dimmi la verità. Perché giochi? Devi sapere di cosa avere paura. E quando averne paura. Sono due cose diverse. Fatemi uscire! C'era una volta. Una cittadina. Fondata sulle menzogne. Qualcuno mi aiuti! Per! No, 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 no